Allora, buongiorno ragazzi, sono Carmelo Plattania, sono un tutor che da quest'anno lavora qua in Chiostro presso l'Università di Verona e io lavoro nell'ambito giuridico, però posso comunque parlare anche in generale della mia università, quella che frequento e in generale posso dare comunque dei consigli e la mia esperienza quello che ho passato in questa università fino adesso, anche se non mi manca molto per finire ma potrebbe essere comunque un aiuto per quelli che vorranno o vorrebbero iscriversi presso l'università indipendentemente da quale settore volete, in quale settore volete addentrarvi, diciamo. La mia esperienza, per quanto riguarda la mia esperienza posso ritenermi soddisfatto, per quanto riguarda la preparazione l'Università di Verona penso sia una delle migliori università, vabbè adesso parlo della mia area giuridica però in generale penso che sia una buona università che prepari gli studenti per un futuro non so quanto certo o incerto comunque è anche una grande opportunità, l'università mette a disposizione tanti servizi come l'Erasmus adesso io non l'ho mai fatto, cioè non l'ho fatto, non so se andrò in Erasmus però sono tante opportunità, tante occasioni che l'università mette a disposizione detto questo, niente, secondo me vale la pena provare e se avete domande o comunque qualche dubbio potete venire qua in Chiostro, noi siamo sempre qua, siamo ragazzi che stanno frequentando l'università alcuni hanno appena iniziato, alcuni stanno finendo, quindi avete pareri diciamo a 360 gradi e niente, vi aspettiamo qua in Chiostro e io credo possa andare dai grazie a tutti